Mi piace osservare quando vado al ristorante la sera con amici quello che avviene negli altri tavoli spesso e vedo per esempio quando arrivano quelle compagnie così, che bisogna mettersi a sedere, come ci mettiamo? Le donne, ma sempre le donne, tu lì, tu là, tu no, tu mettiti qui, tu stai qui, tu stai là, fanno i posti, fanno i posti, o decidono loro, forse sono più bravi perché noi rimaniamo lì, così fa dove mi metto? E loro, tu mettiti lì, tu ti metti lì, a capa tavola lei si mette lì, lui va vicino a quello, la decisione è esclusivamente femminile, come in macchina per l'aria condizionata, il vetro giù, il vetro su, anche al ristorante, tu lì, tu là, no, tu mettiti lì, no, dai, non lì, perché poi dopo loro stanno così, hanno già fatto il piano. Però è bello questo perché noi siamo sollevati da questo impegno, cioè noi facciamo, va bene, mi metto lì, come dei gonzi smerigliati e squassati di pogne.